Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 40esima puntata serie svizzera siamo qui in compagnia di Enrico che è già attaccato il rimorchio poi abbiamo dvd franzo da qualche parte giuro aiuto aprite dove sei andato il sito che si su rimorchio ah orco ma o che tu sarò su dentro il rimorchio? ah signor aspetta che cavami gli elastici lei dicava via gli elastici aspettano un attimo oh guarda cosa fai ma ma cosa fai? stavo pulendo rimorchio qua è un po' sporco ma la cosa se li dobbiamo darlo via ma cosa ti prega? ah si? si basta troppo piccolo non ci conviene più anche perchè ah beh bene bene la mia mano va che sono vecchio oh ma non è che magari gli serve a franzo per andare a prendere le medicina e questo rimorchio? oh calma calma ma le ordina le ordina da omar ah giusto giusto adesso ormai sta diventando adesso c'è il corriere e hai capito dunque poi diciamo non è che vado a prendere i bancari di medicina sono preso così male beh circa magari tra qualche mese eh 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 poi abbiamo DVD ancora ciao ecco e... ho ben morato bene e franzo? ciao ecco bene dai ci saluto no eh prima stavi chiedendo aiuto dentro il rimorchio ah allora eh detto questo abbiamo accennato eh in svariate puntate che rimorchio era ora cambiarlo adesso dato che abbiamo guadagnato un po' di soldini vendendo eh un po' di colza un po' di soia un po' di roba varia andiamo a cambiare rimorchio quindi andiamo da Steve andiamo così sentiamo anche il... come siamo messi col... col trattore che doveva arrivare aspetta che chiudiamo o allora bisognerà anche chiamare eh... quello delle vacche per aumentare un po' il quantitativo di vacche nelle stalle adesso vediamo di organizzarci eh per... insomma servono più liquami più... letame anche perchè a breve mi arriverà acquistato qualche altro campo e perciò eh bisogna ingrandire un po' il tutto dove c'è qua Steve? eh adesso vedremo eh la rotondina eccoci qua andiamo a vedere se vanno i fari che è il mago adesso che è arrivato e se funziona e se funziona oh cio ma... si si va tutto va tutto oh buongiorno buongiorno Steve hai bloccato il passaggio orco aspetta allora aspetta buongiorno comunque passi adesso si si grazie grazie buongiorno eeeh eh questo qua è il mio aspetta ecco il trattore ah wow molto bello buongiorno ciao Miro buongiorno Miro buongiorno eeeh si si qua tutto a posto tutto a posto ma è pronto per portarlo via allora? no come no? aspetta sei abbastanza felice perchè l'hai visto si si insomma il trattore c'è una brutta notizia il trattore c'è una brutta notizia c'è una brutta notizia come brutta notizia ancora eh non hai immatricurato com'è ma? E ho appena mandato i dati con il tablet alla motorizzazione Entro sera, domani mattina Massimo puoi portarlo via Va bene, intanto finché ho il trattore in prova Non c'è problema Ascoltavi qua, Stipe, ho un problemino qua con un rimorchio Sostanzialmente noi carichiamo 15-18000 litri E dopo il raccolto inizia ad uscire dalle sponde Ma è una nuova tecnologia? Non so, è un problema perché prima non lo faceva Se carichi meno non lo fa, però se carichi più sì Ma non è che sia tipo un rimorchio seminatrice, tu non lo sai? No, no, sul libretto c'è scritto rimorchio Allora, guarda, penso io, credo lo carichi un po' troppo Ah, dici che sia, che è piccolo insomma Penso, penso è E per risolvere il problema? Eh, è un rimorchio più grande, guarda, adesso Aspetta, che guardo Certo qua se vuoi Ma che bello Mamma mia, ma è troppo grande Ma devi cambiare anche i trattori dopo Eh, sì Sì, soprattutto se hai trattori come quello Sei un po' preso pericolo Sì, tipo attacca qua il trattore elettrico Come facciamo? Eh, sì, sì Cioè, è un rimorchio che tira il trattore Eh, poi ti fidi a mettere Franza con una roba così Sì, no, no, coppa gente Si vuono No, 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 no Beh, ti avevo proposto quel camion là Ma non so Eh, ma non aveva il doppio cassone E teneva, diciamo, sennò tieni uguale al rimorchio che ho Eh, ma sapevo che arrivavo qui Guarda, ti ho messo la sponda Ah, però Eh C'è una tutta altra roba così Eh, sì, eh, sì Tiene molto di più così Sempre coltello anche che si chiude Così si deve andare via Porticina dietro Scarico cereali Sì, sì Diciamo che sarebbe comodo Perché così automaticamente guadagni un trattore Per non parlare che sei anche più veloce nei trasporti Esatto, esatto, esatto Anche perché metti che ho una richiesta Devo portare tot litri a qualcuno E faccio anche prima Eh, eh, esatto Eh, sì, sì, sì Beh, ci sono tante carte da fare per avere questo camion Eh, questa qua va così Quindi è già tipo in pronta consegna No, al limite, chiedi, chiedi, chiedi È già in pronta consegna questo Sì, mi ricordo Perché è parecchio che l'abbiamo qua Ok, ok Eh, sì, è un po' che l'ho visto Però non avevo mai pensato Però adesso effettivamente Potrebbe dare, diciamo, una buona Buona svolta Perché si possono fare anche altri lavori Insomma Ha la gancia per il rimorchio dietro Per caso, sì Sì, si, guarda qua E al massimo si può sempre ampliare, no? Se un domani si aumentassero le produzioni Eh, ma come presto però Perché Qua Però dipende Se vuoi darmi dentro quello piccolino Eh, beh, sì Non tengo tutti e due Non ha senso tenere questo qua Allora, tra poco iniziamo anche a trebbiare Perciò sarebbe bene anche prenderlo Perché Eh Esatto Tra poco Dometti Dimmi, dimmi No, sto dicendo Tra poco toccherà anche la trebbiare Perché ormai Ha sfiorato le 26.000 ore di lavoro Insomma Inizia un po' ad essere usurata Sì, sì, sì Magari parlane con Buro Te ne trovo già fuori qualcuno Sì, magari qualche dépliame prossimamente Perché se non ho tanto tempo Ah, Biro Qualche dépliame vuoi? Sì Qualche foto anche Sì, qualche foto con le descrizioni Della lunghezza Oh, maggio, giugno Come vuoi le foto? No, no Delle trebbie Delle trebbie per la Ah, scusa Eh, pensavo ad altro No, no, no Ok Delle trebbie ma Sai L'ingombro Lunghezza Tutto E la larghezza La barra Sai la barra Ma voi Sì Quella Ok, capito Sì, sì Ma voi Eh La trebbia molto consistente Molto grossa Che appena la vedi Fai Mamma mia Tipo così No, no Non troppo Non troppo Perché non abbiamo Tanti tanti campi Insomma Eh Devi stificarmi un po' Lo standard Che vuoi Di cosa sia Una piccolina E una mezza via Anche i condotti Sai Hanno varie grandizze Esatto C'è quello XXL Anche Eh Immagino No Ma XXL no Però Insomma Hai preferenze Sulle marche Non lo so Ah Basta Basta Che funzioni Ben Che non Daga problemi Va bene Dai Adesso vediamo Ci muoviamo Magari anche Steve Quando va a fare Qualche consegna Senta anche un po' In giro Sì 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 Vabbè dai Per il camion Che prezzo Beh Lì c'è uno sconto Perché è una sorta Di pronta consegna In più Dai anche Rimorchio Rimorchio È messo bene Nuovo Non ha fatto Stata strada I copertoni Sono ancora Vedi C'è un po' Di battistrada Il telo Non è rovinato È tutto Bello Integro Adesso Ci sei salito Sopra 130 mila 130 mila Anzi 135 Dai Facciamo Ah mia Ma anche se ti prendono New Holland Un po' Di sconticino Beh ma l'hai già preso Ognuno Sì no ma nel senso Beh dai facciamo 130 mila Perché c'è stato Un inconveniente Ok ok Adesso Adesso È molto meglio Molto meglio Allora Dove c'è qua Steve Aspetta perché Tanti clienti qua Eh immagini Ottimo Bene Poi sì Bureau Dovevi fargli vedere L'usato Che mi hai detto Dimi Quando arriva Esatto Però Devo farti anche Sfirmare delle carte Marco Eh Per il fatto Della firma elettronica Perché adesso Ti do una carta Che Puoi Circolare Con il camion E questa sera Tramite mail Ti arriva l'atto Di proprietà E tutto Ah ok ok Vieni qua sul cassone Dai firma qua Dai Vediamo qua Vediamo una firma Qua Hola Ok Autorizzazione No 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 Così La prossima volta Quando vieni Diciamo che Tu e il camion O qualsiasi altra cosa Il trattore Ti facciamo La mail E a posto Ah bene Evitare carte Esatto Sì abbiamo un usato Un usato Che è per te Guarda Guarda che bel fend Che abbiamo Però ti interessa Beh molto bello No no questo qua è da rottamare Questo Come è da rottamare Ma è nuovo No guarda L'ha portato a casa Steve Ma gli ho detto Guarda se devi portare Cioè Non portare ferro vecchio a casa Ma che ferro vecchio Questo qua Ma no vedi tutto sporco E' brutto Ma è brutto Guarda Ma dove è sporco Guarda E' bruttissimo E' antiestetico Ma va là Ma guarda che Guarda comfort Che ha Ma si può avere Arribarci sul volante Dai è bruttissimo Ma si ma ti tieni sempre in movimento I alleni pettorali Ma Mi piace Mi piace Va bene Devo andare Perché se no qua facciamo Facciamo tardi Possiamo usare come fioriera Questa qua Cioè Facciamo tardi Ma cosa fioriera Ma Ma dai Steve ma spiegali Perché questo qua vive in ufficio Ma Eh ma Non ha tutti i torti Ormai è datata Come macchina Ma questa qua Qua si è portata a casa subito Mamma mia Vabbè dai Prossimamente Prossimamente Eh ma no Viene a prenderla ragno Tra 20 minuti Come tra 20 minuti No 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 E' al motore finito Beh lo rifacciamo Cosa vuoi Con 2000 euro Rifai il motore Motore frizione Questo qua va avanti In altri 20 anni 30 40 50 anche Ah Devo accogliere Sicuramente Bisogna accogliere Il La potenzialità Delle macchine No No Budavia Ma Ah Comunque Marchino ti arriverà Un messaggino Da me O stasera O Dentro stasera E ti dirò Magari Prima della chiusura Del negozio Se puoi venire a prenderlo Già stasera O domani mattina Trattore Va bene Ah ok Va benissimo Eh si Quello lì No Quello Cioè Dai Sì 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 Ho capito Anche tu Allora Vabbè dai Torno a casa E Dopo Intanto vi lascio qua Di Morchio Vengo a prendere Il Il camion Va bene Arrivederci Ciao 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 Va bene Va bene Una contrattazione Un po Lunghetta Ma siamo riusciti A portare a casa Un bel Un bel mezzo Ci facciamo Accompagnare Adesso vediamo Se c'è qualcuno In farms E dopo Vediamo se c'è Enrico E così Portiamo a casa Il camion E oggi Che è Un mezzo più stretto Ecco Parcheggiamo qua Su l'Eguola Che così Non disturba Nessuno E cosa succede qua Questo qua Arancione qua Sì 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 Guarda che bella macchina Bella bella macchinetta Criminale Come criminale Ciao Marco Ciao Marco No è un parcheggiatto qua Così non dà fastidio Aspetta aspetta Che faccio una foto A Biro Dopo mi incolpa A me Della Iola No no Fare foto No no Che si vede la targa Ascondi a targa A posto Sì sì Faccio un giri coro E portiamo via il camion E dopo vengo A prendermi Vado a fare un giretto Voglio vedere in montagna Come tira Se va In maniera adeguata Oh Guarda che bello Ah c'è anche Letto dietro Va bene Steve Se vediamo Va bene Ma questo Lo lasci sull'Eguola Sì L'ho detto Lasci sull'Eguola Così non intriga nessuno Va bene Oggi i giardinieri Non tagliano No Va bene Eh fiamo un giro Dopo Eh fiamo Dopo Dopo Sì dopo Torniamo qua Cinque minuti Eh cinque minuti Non è mica Ma Aspetta un attimo Attacchi riampeggianti Aspetta No Eh che ti scarichi Non vanno Guarda Non vanno Eh vedi Dopo quando troverai Il bottone Ma Ma Eh C'era una bulla di arie Sul vidrio Perché le fermo Da tanto Steve Ma come vai Non l'hai pagato Tira che c'era Vì Oh Eh la fermo Da un po' Vedi Ma Va bene Guarda Che attacca tutte le luci La batteria Sarà presa Per il collo Va bene Guarda Guarda Hai anche Gli sterzanti Dietro Non so Se te l'avevo Detti Ah no No Bene Bene Che si può Bene Fare la manovra Infatti Guarda Che bello Senti Senti Che motorino Che ha Freni Bella Freni 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 Sono carichi Andiamo Via Pi pianeto Guarda Che è grande Non sei abituato A questo Invento Andiamo Via Pi pianeto Che è freddo Il motore Ma dove andiamo Ah Andiamo a fare un giro Qua Su per la collina Tanto per vedere Aspetta Perché c'è ancora Una spia Un po' Aspetta Scusa Un attimo Pronto? Pronto Mamma mia Pronto Che parla? Qua Quando è che andiamo a vedere Qua Dove è la cacca di gioco? Eeeh Devo venire Vedere Quanto c'è da fare Vabbè Scude Vieni qua Mamma mia Ma è una scavana Riccia Dai Strudel Vieni qua Dai Ma chi hai? Ho comprato Un cane Ah Ah E allora Vi dato il nome originale E l'ho chiamato Strudel Certamente Certamente Strudel Guarda Arrivati dietro le strade Mamma mia Eeeh Dai muoviti Dai vieni qua Perché Ho cinque minuti di tempo Vabbè Arrivati Arrivo Arrivati a vedere il lavoro Guarda che sto provando Un mezzo nuovo Dai muoviti Ti ho detto E' il motore è freddo Il motore è freddo Ma cosa mi interessa Se è freddo No Non possiamo andare più di 3000 giri Anche fuori Qua è freddo Muoviti Che ti sto aspettando Mamma mia Vabbè Eeeh A Marco si sentiva Da Cioè sentivo anch'io Da quanto gridava Eh sì Eeeh Ho perso Deve essermi caduta La tromba di austacchio Da qualche parte Qua per terra Sto il sedile E vabbè Dopo andremo in cerca Mamma mia Un po' Grandino il camion Però con gli aci sterzanti Dietro Devo dire che va Benone Adesso tiriamo un po' Che si è scaldato Ah vai vai Guarda già Già 80 l'ore Sì sì Frenda Andiamo Andiamo Su un po' Il bro Magari Kellner Sì sì Adesso Vuole che Gliaro L'orto Adesso Andiamo a vedere Cosa Da fare Dato Siamo qua E speriamo che Steve Non rompa le scatole Che gli abbiamo lasciato Il cramer In mezzo Ma sì E sulle iguola Non rompe le scatole Nessuno Comune Dai speriamo Bell'acquisto Bell'acquisto C'è Sì Va Inserito così 83 Allora Non era da tanto Però non sembra proprio tanto usato Cosa Questo Sì Caricata la batteria Ma sì Era un po' Una bollicina d'aria Sul filtro Ma mia Ma che c'è qua Ma allora Ti ho detto di dargli una botta col fratone E come grida Si sente da dentro il camion Mamma mamma Eh Beppi Allora Quello lì sopra Ce l'ha di rubere i coglioni O è al posto con camera E rompo qui Un po' I marroni qua Dai passami la massetta Scalpeo Dai Aspetta Ti do bandina Che dai bandina la faccia Così Dai dammela Ma cosa vuoi Ecco Ecco Ciao Ciao Calner Cosa ti interessa Cosa fai tu qua Vuoi venire te Cosa ci fai lui qua Era con me Sul camion Ma come sei venuto a farli qua E rompe le scatoli No mi hai chiamato tu Due minuti fa Ok dai vieni qua Dai Chiamo a vedere il lavoro Ma ormai c'è arrivato Ciao Benny Siccome Cosa vuoi Vieni qua Che ti do bandina la faccia Siccome Si Ti faccio vedere Vieni lontano Quello là Con camicia Guarda Che Già visto Che non ce l'ha Faccia bella Ma quanti smettete di far casino Voi Ancora quale Vengo su e do bandilata Stai attento tu come parla Ma stai zitto Se non va a sbagliare In tua faccia Ah c'è Gente solo aggressiva O se ti posto Mamma mia Io credo Strudel Vieni qua Ma Cosa stai facendo Ma guarda Si Ma c'è il cane No Non è una marmotta Ma non è una marmotta Ma non è una marmotta Se avessi finito adesso Dimmi Calner Dai fammi vedere Dove è sto Io praticamente Gli avevo fatto il mio frutto Bistrude Oh guarda che bello Ma Ma come mai Mi sembra che è un po' Indiagonale Non ha trivellato dritto Non ha trivellato dritto Quelli infame Eh no Io non li ho pagati Ah eh eh Adesso è tornato a casa Senza Senza Omulare Capito E mi ha fatto agrabbiare Quello Eeeh Dove è che vuoi errare Allora Praticamente Parliamo sotto il frutteto No ma cosa stai dicendo Eh non so io Prendiamo bene il frutteto L'impiantato mi è costato solo Sì Anche se non li ho pagati Ah ho capito Allora Praticamente All'inizio volevo farlo Qua dietro a casa Ok Qua dietro a casa Non so Quando sorge il sole Mi fa ombra qua No ma no Tanto È solo appena appena La mattina Mezz'oretta Ma cosa vuoi sapere Tu qua Sto spiegando Adesso tu mi fai Il maestro Professore Eh sì Allora la terra sta ferma Il sole gira E hai Mezz'oretta La mattina Qua un po' di ombra Ma dopo Il sole che gira La terra sta ferma Adesso sa tutto Lui Eh cosa ho appena detto Oppure Oppure Lo facciamo qua E Non so io adesso Qua c'è ancora più ombra Però Ma il sole gira Dopo Ti ho capito E allora anche lì gira Ma ascoltami Ci troviamo La casa è zona sud Ma se la casa Ma se qua siamo a sud Ma cosa stai dicendo Che siamo a sud Comunque Kenner Scoltami qua Se tu lo fai Qua vicino a casa E nascono Le piante Cosa devi piantare Pomodori Tutto Tutto Quello c'è da mangiare Tu dalla finestra Qua dalla cucina La finestrella Qua dalla cucina Riesci Allungare la mano E prendere I frutti Senza uscire Ma quindi anche Se io vado Andare in bagno Prendo un secchio Butto fuori E concimo Esatto Se invece lo fai distante Se tu lo fai distante Devi uscire Col dindillo di fuori Andarti a prendere Il frutto Va bene dai L'ora fai qua Di L'ora E vai per la carnetta E vieni qua Va bene dai L'ora Tra Un'oretta Tempo di Un'oretta Ma sei pazzito Devo agganciare Gli attrecci Dieci minuti Ti ho detto Mamma mia Ma posso portarmi qua Io parrai Che rompono Le scatole Ma non stai facendo niente Portami Lasci a casa Che inganciano Le arratte Eh ma era com'è Perché stavamo Facendo un altro lavoro Cosa stavate facendo Vi stavate Grattando I zibidei Dai vai a prendere La trattatura Dai muoviti Va bene dai Vado su Enrico Ma non Non se neanche Perseghi qua La grassa E fruttetto Non se neanche Perseghi Non se neanche Perseghi Non se neanche Non toccarmi Piante Scendi dal Ram Non è un Persegaro Stavate Non so che E' Il fruttetto Venecio Prendi Noi patiche E' il pico E' il pico Rubate il camion Cosa fate No ma perché Il mio camion E' sopra Il tuo pienale Come è Il tuo questo Eh si certo Se tu parcheggi Qua sopra Non è mica Colpa mia No 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 Io ho parcheggiato Qua Sull'erba Ma e me se tu beppi Questo qua sopra Ma no Allora vedi Se dici bugie Vedi Ecco Bugie hanno gambe curte E tu ce l'hai curte No 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 Qua Vabbè dai Questo è arancione Il mio camion Era arancione E allora vado via Con questo Che vuoi fare tu Adesso sgancio E tu fai scherzi Anche a me Oh E' fuori Fuori Un parcheggio Su pianale O altro Non so io Mamma mia Andiamo a Dio Ma cosa qua siete Andate 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 Guarda 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 Ti pestino Tutta Erba Guardi Guardi Oh Mia Ripaghi Brutto Infame Pisti Erba Ci vediamo Tra le 5 Minuti Muoviti Mamma mia Ma tutti Fuori Da che Miniera Qua Beh Ma Mi serve una Mano Per fare Quello Che devi Fare Qua Posso Anche Adesso Mi dai una mano A ganciare L'alatro Un attimo E dopo te Torni da solo Io non torno mica La Eh no No E' facile Che non torno più a casa Se mi vedono Ancora Ma che piante erano quelle lì che ha messo giù Mi sembra piante solo di alberi No di frutti Non è stagione Magari Però Non ho visto neanche Un Va beh Ho cercato sì qualche frutto Però Non c'era niente Sì ma neanche Un po' Un fiore Qualcosa Sì sì Neanche una gemma Un germoglio Esatto Niente Proprio Piante morte come No Solo foglie Va beh Guarda Comprà un albero De foglie E Magari Non è Sperto Sì Magari lo hanno fregato Esatto Va beh ragazzi Qua si è fatto un po' tardi Adesso Dobbiamo Preparare il trattore Per l'artura Dell'orto Ci vedremo Nella prossima Puntata Intanto Lasciamo Enrico Da Da Steve Che torna a casa Con la Col Kramer E ci prepareremo Poi anche per le tre viature Nella prossima puntata In modo da utilizzare Il nuovo camion Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel like Ciao a tutti E alla prossima Ciao ciao Sì è ancora là Va No La ship è cresciuta Si è capotato Addio Mamma mia Eh La ship è cresciuta E lo ha Lo ha capotato È cresciuto anche qualcosa Al posto del camion Che hai comprato Eh Sì Beh no Questo l'ho messo Steve Steve ma Qua Steve Steve ha perso la lingua Steve Cosa succede Ma Qua Cosa Io ho detto La ship è imprevedibile Ah 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 Ma È aggressiva anche la ship Mi sa Sì 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 Vedi Qua Sono tre foglie più alte Guarda Una Due Tre Sono state queste Colpevoli Va bene Dai Eh Cosa Fatti dare una mano D'estivo Io non voglio rupinare D'estivo Sì Per da bo Prendere D'estivo 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 Io ma casa Ciao ciao D'estivo D'estivo D'estivo